Grazie a tutti. La sera c'è adesso superata la fase delle primarie, possiamo vederle intanto le immagini che noi abbiamo girato la sera di domenica nella federazione provinciale del PD a Cosenza dove c'era questa raccolta del dato elettorale, arrivavano i vari messaggini sui telefonini, Covello 35, Magorno 50, Bossio 80 e così via. Questa è la fase in cui si stava lavorando, trascrivendo tutte le informazioni che pervenivano dai seggi elettorali allestite, che ha visto i nostri servizi, ha avuto modo anche di ascoltare i commenti, man mano che andava disegnandosi questa geografia del voto, commenti alcuni risentiti, alcuni entusiastici, alcuni un po' polemici, ma fanno parte del gioco. Quando c'è una competizione c'è chi vince, c'è chi perde, c'è chi si aspettava di più e ottiene di meno, chi si aspettava di meno e ottiene di più. Insomma, perché poi sostanzialmente non era così semplice, almeno alla vigilia, disegnare quella graduatoria che poi è più o meno venuta fuori. C'erano sì delle informazioni un po' alcune volte distorte, altre volte false, altre ancora veritiere, quindi poi vai a mettere insieme tutte le cose. Non sempre riesci a centrare l'obiettivo. Ernesto Barorno, Stefania Covello, due partecipanti a questa competizione. Come possiamo definirle, Stefania Covello, queste primarie? Ma intanto una competizione, io direi, in mezzo alla gente, una competizione in mezzo alle persone, una competizione in un momento particolare, perché eravamo comunque nei giorni di Natale e reduci, vorrei ricordare anche ai telespettatori, reduci dalle primarie che hanno visto vincere Pierluigi Bersani. Quindi si era già votato in Italia il 25 di novembre e gli italiani sono ritornati a votare la domenica successiva a seguito del ballottaggio e dopodiché ritornano una terza volta per votare per le parlamentarie. E quindi il dato importante è che c'è stata questa voglia di partecipare da parte della gente e da parte dei cittadini. Senz'altro è stato un po' delimitante, è stato limitato il bacino elettorale e quindi anche un po' ristretto, è stata restrittiva. E chi ha penalizzato questa situazione? Ma questa situazione ha penalizzato chi era meno organizzato, io penso, a livello sia strutturale ed ha penalizzato chi probabilmente negli ultimi tempi non era super presente sul territorio. Probabilmente, io la leggerei così, ma più che vedere in negativo io vedrei in positivo. Nel senso che comunque i candidati, ogni candidato, indipendentemente dal numero di voti che ha avuto, ha avuto voglia di cimentarsi e quindi io la leggerei con una chiave di lettura propositiva e positiva. Cioè, la voglia di cimentarsi, di chiedere alla gente che cosa ne pensa della tua candidatura. Sicuramente saremmo andati ancora meglio, non voglio essere presuntuosa e sono sicura che Ernesto, il caro amico Ernesto, condivida il mio pensiero. Saremmo andati ancora meglio, molto ma molto meglio, se avessero potuto votare tutti gli altri. Perché? Era soltanto limitato il voto ai tesserati del 2011. Quindi, se ci fosse stato un tesserato di un anno precedente, non lo ha potuto fare. E quelli che si erano recati alle urne il 25 di novembre. Ecco che quindi, in questo bacino così limitato e così ristretto, riuscire ad avere una messe di voti con il consenso che ti carica e ti dà fiducia, non puoi che vederlo in maniera positiva. e quindi leggere in positivo anche la futura elezione di Pierluigi Bersani. Primarie vere? Primarie verissime. E le polemiche, le cose, i giochi? Le polemiche, caro Attilio, le polemiche... Chi ha votato due volte, tre volte o no? Ma le polemiche ci sono sempre. Io penso che alla fine, insomma, alla fine del risultato, cosa è che si può dire? che si giocava con delle regole ben precise. Le regole, quando ci siamo candidati alle primarie, le conoscevamo. Quindi, conoscendo le regole, sappiamo con chi giochiamo e sappiamo come si sta giocando. E sicuramente, insomma, delle primarie legittime, così come lo sono state, insomma, quelle nazionali. Ernesto Magorno, sottovalutato, poi alla fine, sai queste cose, questi outsider che poi escono alla fine, si impongono all'attenzione perché riescono a... È stata una manovra di quelle sotterranee, fatte in silenzio. No, sono d'accordo con Stefania. Le primarie sono state... Vere? Così come il 25 di novembre, il 2 di dicembre e il 29 di dicembre, una grande festa popolare. Sì, vabbè, la festa popolare, ho capito, la festa popolare... Ho partecipato 26.000 persone. Sì, va bene, ma la festa popolare uno va lì perché ha un'idea di votare una persona che vuole essere rappresentata quella persona. Ma a proposito di chi protesta, che io ho fatti gli studi classici, ma anche il liceo scientifico, ma lo si faceva già alle scuole medie all'epoca mia. Aiutaci, perché abbiamo fatto le scuole dell'obbligo. C'è la favoletta della Volpe, che era l'Ovo, insomma. Sarebbero state certamente delle legittime primarie, se alcuni candidati... Non risparmi niente, insomma. Assolutamente niente a nessuno. Credo che... Cedente è ancora avvelenato. No, no, dico che le polemiche successive alle primarie sono polemiche fuori luogo, perché i nostri seggi sono stati aperti. Esiste un ricorso, però, esiste un ricorso di Mario Maiolos. Che vedremo come verrà valutato dalla Commissione nazionale. Noi l'abbiamo chiamato. Io vorrei aggiungere una cosa. L'abbiamo invitato, lui ha detto che non posso parlare fino a quando non c'è. Vorrei dire una cosa. Io vorrei dire che il nostro risultato, a mio avviso, non è una novità. alle primarie del 25 novembre e del 2 di dicembre Renzi, nella nostra provincia, ha avuto uno straordinario successo. Noi ci siamo giocati la carta di scegliere un candidato unico. Io di questo ringrazio gli amici sindaci. È andato meglio di Gori. Meglio di Gori. E abbiamo realizzato un risultato che è il frutto del lavoro dei ragazzi dei comitati. C'è un voto diffuso su di me in tutta la provincia. Poi parleremo anche degli amici più importanti, dei leader che mi hanno sostenuto, ma ci sono risultati eclatanti. Apriliano, Primeletto, Mondalto, Torano. Dammene uno dei leader che ti ha sostenuto. Dammi il nome. L'onorevole principe mi ha dato un contributo che è un contributo, come dire, non solo numericamente importante, ma è qualitativamente importante. Stefania voleva aggiungere una cosa. Io sì, volevo aggiungere una cosa. Tu ci hai fatto una domanda provocatoria. No, 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 provocatoria a fin di bene, come fai sempre, d'altronde. Tu hai detto che sono state primarie vere. Vorrei che accanto a noi ci fossero stati, nel momento in cui tu ce lo chiedevi, tutti gli amici di tutti i comuni della provincia. Chiedilo a loro, Attilio. Veramente si sono spesi. Per noi candidati, poi se era Stefania, Mario, Ernesto, Giuseppina, Francesco, non era quello il problema, però abbiamo avuto dei segretari di partito ai quali noi dobbiamo rivolgere un plauso serio, perché sotto Capodanno riuscire ad allestire seggi elettorali con la partecipazione della gente. Credimi, guarda, Attilio, Ernesto prima diceva, ma io pure mi devo assolutamente fermare un attimo a rivolgere un ringraziamento forte a tutti coloro i quali intanto io non sono presente soltanto in otto comuni, dopodiché io ho preso, anche se 4 o 5 voti, ho preso dappertutto voti. La cosa bella è uscire da Cassano con 700 e più voti. Io sono stata straeletta a Corigliano, io a Schiavonea prendo 300 voti, nella Diamante di Ernesto Magorno ne prendo 400, quasi 500. La prima eletta a Paola, la prima eletta ad Amantea e soprattutto ecco a Cleto. la stessa cosa avviene ad Aiello Calabro, così come a Pietra Paola, così come avviene a Trebisacce, ecco quindi diciamo che a Raggera e poi ce la battiamo con Enza Bruno Bossio su due seggi io e due seggi lei su Cosenza, però diciamo che non in maniera negativa, in maniera positiva noi dobbiamo leggere tutto ciò, perché sicuramente c'è stata questa grande partecipazione della gente. Vi faccio una domanda, ha contato di più la macchina organizzativa di ogni singolo candidato o l'impatto del singolo candidato sull'elettorato? La seconda ipotesi. Io credo che, lo dico immediatamente, io lo ripeto. Ai fini numerici l'apparato? Io ripeto una cosa che ho già detto all'inizio della trasmissione, io devo molto del mio risultato ai comitati. La macchina organizzativa dei comitati è stata straordinariamente efficiente, penso a Luigi Gagliardi, Antonio Nicoletti, a Medeo Valenti, Ugo Massimilla, sono i ragazzi di Pietra Paola, di Abrigliano, di Torano, Davide da Montalto, sono ragazzi straordinari che si sono mobilitati e hanno lavorato in questi giorni in maniera incredibile per darci una mano. Poi credo che abbia anche contato nel mio territorio, per esempio sul terreno Cosentino, la presenza radicata, l'aver fatto tante battaglie in questi anni, l'essere stato anche il capogruppo del Partito Democratico alla provincia mi è servito tra la gente, questo mi è servito perché ero conosciuto. Ma in queste competenze conta anche l'abilità di stringere dei rapporti di alleanze? Credo proprio di sì, credo che è importante che durante questo tipo di battaglie, questo tipo di campagne parlamentarie sono state definite, nascono rapporti che servono anche a camminare insieme, perché no? Ai fini del... c'è stato un doppio successo, chi l'ha avuto numericamente? E allora lì si avvaleva di una struttura preorganizzata. E poi però io darei più importanza a quello che dicevi tu prima, cioè all'impatto con la gente. Ma avete avuto modo di fare campagna elettorale? Scusatemi, com'è possibile in 4-5 giorni fare la campagna elettorale? Allora, intanto la campagna elettorale era iniziata già durante le primarie di Bersani e comunque... Ma sapevate già di essere candidati? Silvio, tu che fai politica... No, no, io politica no. No, tu generico, se tu fai politica sai che in campagna elettorale ci devi essere tutti i giorni dell'anno e l'impegno lo prendi non solo quando sei in campagna elettorale. Ecco che quindi vieni promosso dalla gente e l'impatto positivo ce l'hai perché ti promuovono anzi, forse grazie a Dio, dico io, non c'è stato tanto tempo per predisporsele. Perché probabilmente io ed Ernesto saremmo stati fatti fuori se ci fosse stata fatta un'organizzazione diversa dal punto di vista di primaria, perché qualcun altro poteva organizzarsi a livello strutturale meglio. Il fatto che non ci sia stato il tempo ha dato modo a chi invece è sul territorio in maniera capillare ed è strutturato dal punto di vista personale, non di apparati, sul territorio la gente ti ha votato perché non avevi tu la possibilità fisica, materiale di poter contattare tutti quanti. Lo puoi fare con Facebook ma è una cosa abbastanza superficiale tutto ciò. Allora per farlo a livello personale, a titolo personale, come vedi noi siamo afoni completamente. Sicuramente non ci siamo risparmiati a creare contatti con tutti i potenziali elettori, ma quanti? Io anzi me ne scuso pubblicamente e utilizzo la vostra gentilissima emittente che sempre ci ospita per porgere le scuse a tutti coloro i quali comunque mi hanno votato e che non sono stati da me raggiunti. Perché è mancato il tempo? In pochi giorni si utilizza molto il telefono, no? Assolutamente sì. Lo utilizzano i candidati, lo utilizzano gli amici, la struttura che hai attorno. Ma questo è normale. Io per esempio sono riuscito in tre giorni a toccare 35 paesi. Sono stato in tutto l'esero, sono stato in gran parte dello York. Sì, perché i ragazzi mi hanno dato una grande mano a fare questo lavoro. Ci siamo visti per esempio quando sono stato a Cariati. Ma incontri solo col comitato elettorale? Con i ragazzi i comitati. Comitato elettorale. Sì, in giro sono stato dai comitati. Basta insomma, questo è stato fatto. Assolutamente sì. Sono stato a Castrovillari, sono stato a Cariati, sono stato a Corigliano, sono stato a Rossano. Ma perché partecipa a questa battaglia? Gliel'avete detto insomma. Ma certo, noi abbiamo chiara l'idea. Che cosa uno vuole fare? Ma noi abbiamo chiara l'idea del perché i candidati vicino a Renzi hanno partecipato alle primarie. Ce l'abbiamo chiara in Calabria così come ce l'abbiamo avuta chiara nel resto del paese. Abbiamo partecipato perché crediamo che... Che uno un'idea deve avere. Assolutamente sì. Deve trasferirla all'elettorale. Ed è quella la solita, di cui abbiamo parlato anche durante le primarie del 25 e del 2 di dicembre, è che bisogna dare voce ai territori. La stragrande maggioranza degli uomini e delle donne candidate da Matteo Renzi in Italia sono uomini e donne che appartengono alle amministrazioni locali, sono sindaci, perché vogliamo fare in modo che i territori vengano almeno in questa fase per la prima volta, per quanto ci riguarda, rappresentati nel Parlamento della Repubblica. Cosa che non è mai accaduta. D'altra parte anche quello che è accaduto in Calabria, anche i nomi che escono in Calabria, a parte la scandalosa esclusione della RAT, che è veramente l'unico parlamentare calabrese che si è visto in giro per i nostri territori, dimostrano che c'è l'indicazione su uomini e donne dei territori. Credo che questa è la prima chiave di lettura che noi dobbiamo fare delle primarie in Calabria e in Italia, in provincia di Cosenza e in Italia, questa lettura è chiara. Dove ci sono stati in provincia di Cosenza, anzi uomini e donne del Partito Democratico che si sono organizzati, che hanno deciso di smettere di guardare in alto e di misurarsi per fare in modo che i nostri territori, chi rappresentiamo la nostra terra, possa avere una chiave di svolta. Un dato nazionale che queste primarie l'ha vinte l'area più a sinistra del PD, a livello nazionale questo è il dato che emerge. Che l'ha la più organizzata. Secondo alcuni analisti politici è perché ha una sua struttura, una macchina organizzativa più forte. Anche se ci sono tante regioni d'Italia dove invece prevale l'area cattolico moderata. complessivamente. Chi esce meglio è l'area della sinistra. Considerato però che il Partito Democratico, sappiamo bene, che nasce con una miscellanea di area democratico-cattolica moderata, area di sinistra e di riformisti. L'hai chiamato Fioroni o no? Veramente mi ha telefonato la sera per sapere come stava andando e si informava dei suoi vari amici dislocati in tutta Italia ed era contento perché avevamo avuto questo bellissimo successo e quindi era molto contento e soddisfatto. Renzi l'hai sentito? Assolutamente sì. Intanto mi ha chiamato la sera del 29, poi ho uno che risponde al telefono. Se non sono andate il massimo le primarie per Renzi. Noi complessivamente credo che porteremo in Parlamento una pattuglia di 50 parlamentari che non è poca. Si aspettava di più. Credo che però 50 parlamentari non saranno pochi nel Parlamento. Credo che va chiamato perché è uno che chiama e risponde al telefono. Ci siamo sentiti anche l'altro ieri. Si non ci mette messi a rispondere al telefono e non è poco per un leader nazionale rispondere al telefono dei suoi quadri periferici. Oggi del resto ha tagliato 200 euro di stipendio ai dipendenti del Comune di Firenze. E poi oltre a Peppe Fioroni io la sera stessa ricevevo telefonate prima che di congratulazioni di interessamento alla mia vittoria da cari amici che mi hanno sostenuto e che hanno creduto. Anche da chi non ti ha votato? No, 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 da chi mi ha votato. Per esempio Mario Pirillo. Mi piace ricordare l'europarlamentare caro amico Mario Pirillo che mi ha sostenuto così come l'amico carissimo Sandro Principe che devo dire la verità ha sempre dato grande fiducia alla mia persona anche da quando ero più piccolina dal punto di vista anagrafico ma anche politico. E quindi la sera stessa in maniera molto affettuosa voleva avere notizie per sapere come stavano andando le mie cose per cui insomma il ringraziamento come ha fatto Ernesto prima sento di doverlo fare io non solo a tutti coloro i quali mi hanno votato ma ci sono dei sostenitori che comunque sono stati ma Principe è determinante in questa competizione secondo voi? In questa competizione del Partito Democratico che sarà o che è stata? Che è stata. Ma io penso che lui sia sempre stato determinante nella vita del Partito Democratico. I guai se non lo fosse e guai se non lo fosse stato. Sentiamo Ernesto. Io credo che Sandro, l'onorevole Principe, a ragione Stefani è stato determinante, ha dimostrato di essere determinante, qui non è la questione numerica, del dato numerico che ha potuto e dell'apporto che ha potuto mettere nel mio voto o in quello di Stefani. Credo che quello che è determinante è la scelta politica di Sandro Principe. Se capisco bene, l'onorevole Principe così come penso io, spero che anche l'altra parte moderata del Partito Democratico lo immagini in Calabria, immagina di costruire nella nostra regione e prima ancora nella nostra provincia un'area riformista moderata che possa proporsi come area di governo del nostro Partito. Io credo che questa è la straordinaria importanza del sostegno dato da Principe a Magorno. Diversamente. Ma quando è stato determinante, che peso ha avuto l'essere, come dire, espressione di un'area socialista? Tanto. Nella scelta di Sandro a mio avviso è stata determinante il fatto che abbiamo un impatto elettorale. Assolutamente non c'è stato nessun impatto negativo. Un grande impatto positivo perché l'area socialista della mia provincia mi ha guardato Stefania, area ex DC mi parla. Io non parlerei mai di ex DC, parlerei di area cattolica, moderata. D'altronde io non voglio mai dimenticare le parole del Cardinal Bagnasco che incita i cattolici, i moderati a farsi avanti in politica e soprattutto invita coloro i quali si sentono far parte di un momento politico, di concetto cattolico, eccetera. D'altronde portatori sani di quei valori meravigliosi che ci hanno tramandato uomini come Alcide De Gasperi, come Moro e così via. Quindi quella pattuglia che ha votato te pesa in una certa percentuale all'interno di questo PD che si sta giocando la partita. In una contaminazione culturale e politica appunto che insita nella natura, da quando è nato il PD, nella natura del PD. A proposito di telefonare posso dire pure qualche cosa? Sì. Per ringraziare. Io devo ringraziare pure io, mi ha chiamato Mario Perello, mi ha chiamato Mario Franghino, mi ha chiamato Sandro, va bene, ci siamo tenuti in stretto contatto. A parte di tanti ragazzi, tanti sindaci che mi hanno chiamato, ma devo dire che anche verso il mio dato c'è stato l'interesse di Franco Laratti, ci siamo sentiti il giorno dopo, devo dire che c'è stato un interesse anche di dirigenti del partito che anche non avevano sostenuto le nostre posizioni. Franco onestamente è il deputato che ha fatto più di tutti nella fase... Non ci sono dubbi, la sua esclusione è veramente scandalosa. E che so che sarebbe stato qui con noi stasera, ma che alla febbre non può essere con noi, perché mi ha scritto un messaggio affettuoso dicendo appunto che non sarebbe venuto. Questo appartiene a ieri. E adesso? Adesso arriva il bello. Adesso arriva il bello e questa messe di voti enorme non può che caricarci, non può che spronarci a fare bene, ad operare bene, ad essere non solo presenti sul territorio in una campagna elettorale che ci vedrà impegnati in prima persona a tutto spiano, ma ci carica, questo consenso così grande, questa piena fiducia ci carica di un'enorme responsabilità. La responsabilità di far parte di quella classe politica... Il regolamento che cosa prevede Stefani? Adesso? Le regole di chi ha partecipato alle primarie? Perché ha dovuto firmare, diciamolo, un modello, no? Ha dovuto firmare... Ma dal punto di vista lo chiedi? Perché è un regolamento molto lungo che va... Come va organizzato? Come va organizzato? Sceglie Roma, scelgono i provinciali, scelgono le regioni... Sicuramente ci sarà una copartecipazione di quelle che sono le... Perché se sceglie la torre... No, diciamo che sicuramente... Ora nella metodologia, la metodologia sarà... Benché si baserà su una discrezionalità partendo da un regolamento, come dicevi tu, perché... Non sarebbero servite a nulla le primarie, altrimenti, non sarebbero servite... Voi siete guadagnati il posizionamento. Sul campo, sul campo. Ora come ce lo siamo guadagnati è la postazione, non chiedercelo perché ci metti in crisi, altrimenti... No, no, no... Lo dico simpaticamente, dico semplicemente a parte gli scherzi... Però uno si aspetta che il partito valuti il posizionamento... Sicuramente, ecco, noi ci aspettiamo che ci sia una sorta di coerenza tra quella che è stata la volontà dell'elettorato e quella che sarà la volontà del partito in una... Sicuramente in una omogeneità di valori che sono appunto non solo i numeri, ma ci mancherebbe altro... Tante peculiarità, perché poi ci siamo tante anime in questo partito. È vero. Tutte devono essere rappresentate. E tutti devono essere rappresentate. Non è vero, per esempio, che il partito nazionale si riserva quel 10%, perché non è il 10%, ma è il 30% di candidature calate dall'alto. Le primarie nel Mezzogiorno d'Italia siamo passati in tre dell'area renziana, quindi il problema è un problema che riguarda Renzi e Graziano del Rio, quindi che troveranno loro le nostre soluzioni, a parte i nostri risultati. Poi credo che però la questione importante è quella di capire come affrontiamo la campagna elettorale. Un attimo, soffermiamoci ancora, siamo nella fase, ancora dobbiamo essere inseriti in lista, già pensiamo alla campagna elettorale. Se Stefania Covello partecipa alle primarie, si fa in quattro, raggiunge un numero di preferenze importanti, il partito deve prendere in considerazione questo. Sarà così, il partito ne prenderà altro. Dovremmo vingere alla Camera e al Senato per far quadrare i conti delle primarie. Sei già nella seconda fase, la prima fase stiamo adesso discutendo. Allora, rivolge la domanda precisa, non c'è il tempo di rispondere. Allora, voglio dire, le regole sono ormai acclarate. Bisogna vedere adesso come reinterpreta Roma queste regole. Se si attiene ad uno schema, all'idea guida. Ma io ti ho detto quello che penso, però. Penso che nelle regole si terrà conto però dei conti che dovranno esserci tra la lista della Camera e quella del Senato. Se così non fosse, non ci sarebbero state le primarie. Sicuramente Bersani non avrebbe innetto le primarie, le parlamentarie in tutta Italia, perché quello che è avvenuto in Calabria è avvenuto nel resto d'Italia. Per cui io penso che questa promozione, tra virgolette promozione, dei candidati... Se la sono giocata sul campo e se la sono guadagnata sul campo, penso... Gli iscritti del PD e quelli che hanno partecipato alle primarie tra Bersani, Renzi, Vendola e Compagnia Bella hanno detto, vabbè, per noi quelli che il partito deve tenere in considerazione sono Covello, Magorno, Bossio, Villella, Varatta, insomma, con questi punti di riferimento il partito dovrà poi organizzare la lista. Per me non è un'operazione semplice, onestamente non, perché devi tener conto delle varie anime del partito, devi tener conto delle esigenze del partito nazionale, che i suoi dirigenti non li mette, non li manda, come dire, in pensione. Ripeto, nella riunione che si è stata fatta, il giorno in cui sono state decise le primarie, un documento approvato e firmato dal comitato nazionale del partito, il 10% si riserva il PD di presenze nelle liste, secondo mio podesto parere, questo 10% si trasformerà in un 30%, perché nelle cose, se non riesci a leggere bene tutta la geografia del partito che conta. Ma potrebbe esserci che fisiologicamente ci possano essere degli accrescimenti di percentuale in alcune zone, laddove il PD è cresciuto di meno dal punto di vista elettorale, è naturalmente inversamente proporzionale, laddove invece c'è stata una messe di voce. La Bindi, come l'avete digerita la presenza della Bindi? La Bindi, io l'ho detto anche presso un'altra emittente televisiva, durante un'intervista fatta con altri amici del partito, la Bindi sicuramente non è stata semplicemente catapultata dall'alto, ma si è cimentata dopo la pubblicità, facciamo una pausa, ti faccio anche da co-presentatrice, hai visto? A tra poco. Torniamo in diretta, allora Stefano stavi parlando di... Era abbastanza complesso il ragionamento che tu ci hai fatto, nei quali ci siamo... Io cerco di capire, perché non conosco come funziona... No, tu ci stavi appunto dicendo che, benché sia stato deciso da Roma, che il 10% spetterà appunto al partito, e tutto il resto dovrebbe essere secondo l'ordine, in base alla volontà dei cittadini e degli elettori che hanno votato, l'ordine di arrivo, ecco, poi tu ci hai anche detto che avevi delle perplessità in merito a questo 10% che potrebbe anche essere un 30%. E in questo grande... Io qui lo sottoscrivo. Lo sottoscrivi, allora... Ci sono... E ci chiedevi cosa noi ne pensassimo, allora io ti ho risposto dicendo che, secondo me, si parte da un dato, che Bersani, che è una persona che ha un grande senso di responsabilità, e fino ad ora quello che ha fatto, prendendo l'impegno con gli italiani, lo ha portato avanti. Non penso che, se dice una cosa, poi ne commette un'altra, tutt'altro, anzi, da questo punto di vista la garanzia è che ci sono state le primarie, che quindi sono il sigillo vero, autentico, di quella che è stata la volontà dei cittadini iscritti, dei nostri... degli amici del PD. Ora, detto questo, è normale che laddove invece ci sono regioni che non sono andate benissimo dal punto di vista elettorale a queste primarie, allora potrebbe anche essere che effettivamente in queste zone un po' più a rischio, zone un po' più deboli elettoralmente parlando, potrebbe essere che a Fisarmonica questa percentuale può aumentare. Laddove c'è questa esigenza di dirigenti, probabilmente si agirà. Su Rosi Bindi tu mi chiedevi, ma intanto Rosi Bindi sicuramente nel contesto italiano è sempre stato un valore, è sempre stato un valore perché io la ricordo come Ministro della Sanità. Come Ministro della Sanità Rosi Bindi è stata grandiosa, i medici ne parlano tutt'ora, ancora oggi ricordano Rosi Bindi statista nella sanità. Ora, probabilmente in Calabria non è sempre giusto che vengano dall'alto, abbiamo avuto una deputata, Daniela Mazzucconi, che io non so neanche come sia fatta fisicamente, lo dicevo prima che non ero candidata, l'ho sempre detto e continuo a dirlo ancora oggi, che effettivamente queste primarie hanno tra virgolette salvato quello che è il rapporto con i cittadini delle primarie, del PD calabrese italiano, e che però nel contempo si deve prendere atto delle parlamentarie che noi abbiamo avuto in Calabria. Rosi Bindi comunque non ci è stata catapultata dall'alto, allora intanto non si è voluta mettere da parte, questo è un problema suo, cosa che hanno fatto diversamente altri invece, ma questo non sta a me né giudicarlo né aspetta a me dire se abbia fatto bene o se abbia fatto male. Sicuramente si è cimentata alle primarie e ha preso i suoi voti, per cui dopodiché... Le grandi frequentazioni in Calabria, quindi è chiaro che la conoscevano tutti, il voto era automatico. Lei sicuramente era un abituè della Calabria. Sì, quindi i voti li ha presi perché lei sostanzialmente con la Calabria ha avuto sempre grandi e ottimi rapporti. Non parlare bene alla Bindi perché Renzi voleva rottamarla la prima, quindi non venire a dire adesso che... C'è da fare una lettura rispetto a quello che accadrà. E' evidente che alla luce del 2 di dicembre, l'area persaniana del 2 di dicembre, l'area persaniana è un'area vasta e far quadrare i conti in questa area credo che sarà difficile. Tra 25 giorni mi parla, no, 27 gennaio bisogna... E a mio avviso hanno anche sbagliato in alcune province, questo è vero nella mia ma è vero anche in tante altre, a far candidare troppa gente di quest'area. E questo a mio avviso creerà delle difficoltà di quadratura del cerchio da questo punto di vista. Ritengo che nella nostra regione, nella nostra provincia e anche in altre province, la quadratura del cerchio di questa grande area è forte, è difficile da far quadrare. Ma credo che però, ha ragione Stefano, Bersani, che ha lanciato un segnale forte rispetto alle primarie, non potrà non fare in modo che nel mezzogiorno, soprattutto nel mezzogiorno, non venga rispettata questa scelta fatta dal segretario del partito. Noi è chiaro che abbiamo meno difficoltà da questo punto di vista, perché noi siamo un'area unita, lo abbiamo dimostrato anche nelle primarie, dove abbiamo partecipato, per esempio, in Galabria strategicamente abbiamo scelto di candidare uno nella nostra provincia, è uno solo, e abbiamo deciso di concentrarci su una sola candidatura, ma lo abbiamo fatto anche in altre province e in altre regioni. La quadratura per l'area Renzi è molto più facile, però detto questo credo che lo strumento delle primarie non possa essere disatteso. E mi auguro che la questione della Bindi, nessuno mette in dubbio il valore di un quadro dirigente come la Bindi, che è stato un grande ministro, però io credo che a Reggio di donne che potevano competere, ce n'erano, e che la scelta di mandare la Bindi in Galabria sia stata una scelta sbagliata. Al di là di quello che lei ha scelto, ha chiesto la vera che è stata data, ed è giusto che abbia fatto le primarie, ma le primarie si fanno in casa propria. Ognuno lo deve fare in casa propria, le primarie, perché è quello il territorio da cui parti, è quello il territorio che ti deve giudicare, è quello il territorio con cui tu hai le maggiori relazioni, perché ti conosci. Perché ti conosci. Questo è il vantaggio che ha la nostra... Non capisco perché alla Bindi sì, è stato principe no. Io credo che la lezione... Ci stavo arrivando, mi è preceduto. La lezione delle primarie in Galabria ci deve insegnare che le esclusioni come quelle di Sandro Principe, che a mio avviso dovevano essere, l'onorevole Principe, doveva essere il nostro capolista, o alla Camera o al Senato. Perché senza deroghe, senza richieste di deroghe, perché noi parliamo di un quadro dirigente che è uno degli unici in Italia ad aver scelto nel 1994 di rimanere nell'area riformista, di avere aderito ai democratici di sinistra, io l'ho fatto nel 1992. Quando la stragrande maggioranza dei socialisti calabresi e dei socialisti italiani andava da altre parti. E ha mantenuto nel voto del Partito Democratico. Io voglio ricordare a me stesso, a chi mi ascolta, che alle regionali di cinque anni fa Sandro ha conseguito 9.000 voti di preferenza. Quindi significa che il pacchetto, in senso buono, il consenso dei voti riformisti, che sono andati al di là del voto di preferenza ottenuto al Rente, c'è stato, che c'è una grande area riformista nella nostra regione che ha scelto di stare in questo partito. Per cui avrei visto bene che Sandro venisse indicato come candidato capolista o alla Camera o al Senato per riconoscere a questa parte importante, se si vuole costruire veramente anche in Italia un partito democratico che conquisti quell'area che nel 1994 non ha seguito, per ragioni di contrasto con il Partito Comunista, il PDS I, il PDS II e oggi il Partito Democratico. Ecco perché parlavo prima, Stefano. E lo dico anche a te. Pensiamo in Galabria a costruire un'area... penso anche per esempio a Roberto Castagna, a una grande area che mette insieme un mondo che fino a questo momento è stato ai margini del governo del Partito Democratico. Perché diversamente noi andremo sempre ad avere una debolezza di questo partito in Galabria che non lo fa decollare come avviene anche in altre regioni del Mezzogiorno, proprio perché manca questo grande punto di riferimento, che è quest'area moderata che può parlare alla gente, a tanta gente che è vicina idealmente a noi, ma che fisicamente ha bisogno di vedere all'interno di questo partito gente che condivide. Si è andato già nella seconda fase. No, vorrei aggiungere una cosa. La prima fase, si è andato già nella seconda fase. Tornando alla prima fase, fermo restando che serve a ben poco perché poi le cose sono avvenute e non si può tornare indietro rispetto a ciò che già è stato. Però sicuramente c'è stata un'improvvisazione nei tempi e quindi un'anticipazione di una serie di circostanze che sono avvenute. Io, il fatto che non sia stata concessa la deroga a Sandro Principe, io non la vedo come una bocciatura a Sandro Principe. Sandro Principe è stato penalizzato perché sicuramente avrebbe avuto voglia di cimentarsi ed è un peccato di Dio che non possa farlo. Ma è stata penalizzata la gente di Calabria, è questo quello che io vorrei sottolineare, ed è stato penalizzato il partito perché sicuramente avrebbe gareggiato, avrebbe concorso con una messe di voti enorme, quella che è sempre stata. Detto questo... Lo chiederò a Sandro Principe quanto prima. Avrà modo anche lui di... Sarà lui poi a parlare. Sarà lui stesso poi a parlarne. Sicuramente, ecco però, questo non significa che cosa? Che lui sia da parte rispetto a... perché comunque lui con il ruolo che disputa da capogruppo, noi sappiamo anche bene che il gruppo regionale ha bisogno di una persona come lui, ha bisogno di essere guidata per bene e soprattutto il PD in Calabria in questo momento, in questa fase precisa di campagna elettorale, ha bisogno di una risorsa come Sandro Principe e non la farà mancare, questo sicuramente. Provincia di Reggio, da 2 a 3, Vibbo 1, Crotone 1, Catanzaro da 2 a 3, Cosenza da 4 a 5, no? Che dici? Che sei tanto i numeri, eh? Dico che sei tanto i numeri, ti ripeto quello che ho detto, insomma. No, ma più o meno... È evidente, ma non lo vedo... Vedo così, esattamente il quadro. Credo che se i numeri si lasciassero ai calabresi, i bersaniani potrebbero trovare la quadratura del cerchio, certamente. Se i numeri invece si spostano sul tavolo romano e si complicano perché mandano in Calabria, oltre a i corpi che ovviamente sono all'interno del partito, ma che sono estranei alla nostra regione, quindi penso a Dattore per essere chiari, e la Bindi, se oltre a queste blindature, ce ne sono delle altre, è chiaro che può complicarsi la quadratura del cerchio. Però credo che... Sei convinto di no? Credo che... Credo di no, credo che a livello nazionale, poi al tavolo dove veramente se faranno le liste regionali, credo che poi troveranno la giusta soluzione che rispetti la volontà, la volontà dei cittadini che hanno votato. Quindi rispetto ai numeri che ho dato io, che differenza? Non credo che hai dato dei numeri, ti sei avvicinato, credo che ci sia qualche dato inveriore in alcune provincie. Vediamo dove ho sbagliato. In provincia di Reggio, forse? Penso di sì. Rimaniamo a due? Credo di sì. Quindi due. Vibbo e Crotone, facile. Catanzaro, da due a tre? No. Ma scusa, perché vuoi farlo? No, dico... Io sono il meno interessato a fare questi conti. Ma così, stiamo facendo un conto così. Ma credo che tu debba chiamare Dattore e farti una chiacchierata con loro. Chiama Dattore. Rispetto a questa questione. Chiamiamo in diretta. Chiama Dattore e parla con Dattore. Dobbiamo parlare delle cose nostre. Quindi due, due... Diciamo due, la città capologo di Regione. Due, tre... Catanzaro, sta dicendo... Uno? Potrebbero essere due. Eh, due. Scusami. Due ci devono essere per forza. Due bisogna essere... Per forza. Uno è una donna. Per forza due. Ah, sì, ce l'ho l'ho muo. Eh, per forza due. Per forza due. Ah, sì. E poi andiamo alla provincia più grande. E qui, in gioco. E qui ce ne sono quattro. O cinque. Noi ci auguriamo che ce ne possano essere... O sette. Ecco. Tutto non dipende da... Può darsi sette. Da una volontà dei candidati, ma dipende dalla volontà dei cittadini. E' una espressione, espressione, uscita dalle urne. Però io credo, scusa, ti posso interrompere. Devono fare liste che prendono il consenso della gente. Se decidono di inserire un capitano che guidi questa squadra... No, io la vedrei in maniera diversa, caro Giulio, che sicuramente potrebbe essere invece pescato chi è in impostazioni inferiori. Ecco, allora in questo caso potrebbe esserci questa ipotesi. Dipende dagli elettori. Dipende dagli elettori. Dipende da come si va. La squadra o mai quella. No, no, io mi riferisco al numero di seggi che si prendono, non alle persone. Io mi riferisco... Tu dicevi numeri da 4 a 5. Allora, i seggi sono 18, perché sono 20, perché 2 ne hanno persi, perché la popolazione calabrese si è un po' sottigliata. 10 sono i seggi senatoriali. Quindi a disposizione ci sono... Quanti seggi ci sono a disposizione? 30, tra Camera e Senato. Atteso che chi vince si becca al 50% col premio di maggioranza, no? No. No? Chi vince vincendo anche in sede regionale, però. Perché il voto lo deve distinguere. Sede regionale. Siamo in sede regionale. Siamo in sede regionale. Sede regionale. No, 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 aspetta, aspetta. Alla Camera dei Deputati bisogna vincere a livello nazionale per premere il premio di maggioranza, anche nelle regioni. Sì. Per il Senato devi vincere nella regione per avere il premio di maggioranza. Nella regione. Nella regione. Però devi distinguere Senato da Camera. E Camera sono due cose diverse. Due cose diverse. Anche nel meccanismo dell'attribuzione dei seggi nelle regioni, il dato è quello nazionale, per cui tu potresti anche perdere in una regione e prendere il maggior numero dei parlamentari. Assolutamente sì. E vincere e perdere al Senato e non prendere il premio di maggioranza. Se dovesse vincere la coalizione di centrosinistra, sia la Camera che il Senato, 11 deputati li porta a casa. E 5 senatori. 11 deputati e 5 senatori. Quindi sui numeri che tu dai ci siamo potrebbero anche ampliarsi sui nomi? Naturalmente noi non siamo in grado di poterne fare. Nomi non ne facciamo, però diciamo, se l'ipotesi che si augura il centrosinistra, che paventa una vittoria del centrosinistra, 11 sono i deputati e 5 sono i senatori. Una pattuglia di 16 rappresentanti della Calabria. Facendo un rapido conto e vedendo chi c'è in campo, insomma non è difficile immaginare come andrà a finire. Almeno io che non capisco nulla di politica, cerco un po' così di leggere tra i numeri. O no? Così. Non sorridi, perché sorridi? Scusa, sorridi. Perché i numeri li stai dando tu questa serie? Io do i numeri, do i numeri sulla base di quelle che sono le indicazioni che vengono da questo momento elettorale. E sarà la partita più difficile questa della composizione della lista. Le cosiddette secondarie. Le secondarie. Secondo tempo. Chiamiamola listarie. Anzi, io direi il terzo tempo. Terzo atto. Primo, Bersani. Secondo, primarie. Terzo, composizione della lista. Chi si assume della responsabilità? Qui si vedrà se effettivamente c'è quell'idea del partito federale oppure no. Se il territorio conta qualcosa oppure no. Questa è la prova di maturità del partito. La vera prova di maturità. Al di là delle primarie, che è un esercizio di democrazia, poi sono veri o non sono veri. Noi aspettiamo fortemente. La parte delicata è proprio questa. Che possa essere superata brillantemente con un atto di grande maturità da parte del partito. Lo dicevo ad inizio puntata. Perché se io faccio le primarie e poi mi ritrovo quattro persone che vengono calate dall'alto, le trovo davanti a me, perché il partito mi impone di ospitare quattro persone che hanno fatto affare le primarie. E certo, significherebbe vanificare tutti gli sforzi fatti non da noi candidati, ma dalla gente che è andata a votare, credendo in queste primarie. Se tu mi obblighi a fare questo percorso per aspirare ad essere candidato, vinco. E poi tu mi devi candidare. Non solo mi devi candidare, mi devi dare un posizionamento a livello di graduatoria che sia... Se dovessimo avere delle difficoltà, noi porteremo con noi Attilio Sabato in assemblea, in direzione, perché è un grande... No, 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 sto scherzando, la metto un po' sullo scherzo. No, è così, hai perfettamente ragione. La prova di maturità è quella. Hai perfettamente ragione, ma non è l'auspicio. Io non vorrei fare, lì c'è nel paese delle meraviglie, che si meraviglia rispetto a quanto può accadere, o che si rifiuta di pensare che tutto può accadere, no. Però io sono convintissima di una cosa, che in questo momento particolare in cui il nostro segretario nazionale è convintissimo che vinceremo e ha iniziato a giocare le carte giuste attraverso appunto la scelta delle primarie, mettendosi intanto in discussione lui. Perché comunque nel prima Monti e nel dopo Monti... Ma il segretario di un partito che si candida alle primarie, cioè si mette in discussione? Ma come si mette in discussione? Che è in mano tutto il meccanismo del partito? Intanto poteva tranquillamente dire non andrà Mario Monti e poteva tranquillamente fare in modo che si andasse ad elezioni, avrebbe stravinto Bersani. Allora la scelta, e lì già abbiamo iniziato con una scelta di responsabilità, perché comunque ci trovavamo in un momento storico di emergenza grande. Andiamo avanti. Oggi ci troviamo a questo punto. Sa di poter vincere attraverso questi presondaggi che ci sono stati. E se sa che può vincere, come si fa a cambiare la squadra mentre questa squadra sta vincendo? Io penso che sia impossibile tutto ciò. Poi tutto può essere, ma noi, come dicevi tu, condivido quello che tu dicevi. Non è possibile perché sarebbe una scelta immatura e irresponsabile, che non è da lui. Posso fare una considerazione che va fuori dai numeri in questo momento. La discussione che stiamo facendo, sottolinea ancora di più quando questo sistema elettorale sia negativo. Perché noi stiamo discutendo di questo, ma insomma negli altri partiti se ne discute senza lo strumento democratico delle primarie. Immaginate come si comporranno le altre liste. Qui ci potrà pure essere qualcuno che rimane fuori o che dovrà affannare perché al Senato dobbiamo conquistare i cinque seggi per poter esserci nonostante sia passato alle primarie. Negli altri partiti invece, manco questo c'è, perché saranno fatte le liste come sono state fatte le altre volte. Però credo che ai cittadini non sfugge, che questo sistema elettorale va cambiato. E credo che il nostro partito, la prima cosa che dovrà fare il 25 febbraio, il 26, ma non come lo ha fatto fino a ieri, ma non come lo ha fatto fino a ieri, è quello di cambiare finalmente la legge elettorale. Perché chi vuole diventare parlamentare della Repubblica deve farsi votare dai cittadini, devono essere i cittadini a dire non su questo tipo di elezioni, su quelle vere. Ti voglio dire una cosa. Anche perché il voto ti dà voce e forza. Senza no. Senza no. E anche i condizionamenti dei poteri dei partiti, quando si fanno le elezioni vere, sono inferiori a quelle che ci sono durante le primarie. Perché su questa ragione Attilio, i poteri dei partiti, le organizzazioni dei partiti con i tesserati, i registrati che ci sono stati il 25 e il 2, sono più potenti quando si fanno le primarie. Meno potenti quando invece ci si può liberamente misurare con il voto d'opinione della gente. Ecco perché credo che, intanto io non credo alle primarie con la registrazione, avevi ragione, tu l'hai detto all'inizio. Perché noi ci dobbiamo misurare dando la possibilità alla gente di scegliere. E poi lì vediamo veramente quando gli apparati... Devi aprirle, devi aprirle. Posso aggiungere un'altra cosa? Lì andremo a vedere quando poco condono gli apparati di potere. Aggiungo brevissimamente una cosa. Tu dicevi prima la legge che non è stata cambiata, ma anche nel PD noi avevamo deputati, caro Attilio, che oggi non hanno avuto il coraggio di cimentarsi alle primarie. Detto questo chiudo, dicendo che se abbiamo avuto il coraggio di cimentarci alle primarie e ne abbiamo avuti 7 mila per ciascuno senza poter pescare in un bacino elettorale nostro, chiedo scusa allo sfogo, perché erano tutti tesserati vecchi di esse, eccetera, eccetera, eccetera. Chissà quanti ne potremmo prendere, quanti ne avremmo potuti prendere se avessimo potuto concorrere in elezioni normali. Ecco che quindi l'impegno con i cittadini ci sta, ma noi siamo... Io mi sono candidata alle regionali due anni fa, mi sono candidata alle regionali di sette anni fa prendendo 7 mila voti. Quindi non siamo improvvisati alle campagne elettorali. Poi ti può andar bene, può anche non andarti bene. Però certo, un dato è inconfutabile, caro Attilio, che o vinci o perdi, e se stai giocando nella partita non puoi poi dire dopo no, ma non andava bene, la regola era sbagliata, perché comunque hai partecipato. Aggiungi solo una cosa e chiudiamo. Ho chiuso. Ah, vuoi dire più nulla? Voglio aggiungere solo questo, che questa parte della mia vita politica e questo successo alle primarie io lo voglio dedicare a una persona, a Tonino H. Io sono uscito fuori dall'ambito municipalistico della politica grazie a lui e ho conosciuto una persona che ho avuto costantemente nella mia mente in questi anni, che è stata una persona per bene e che è saputo coniugare l'essere il più grande presidente della provincia che ha mai avuto la provincia di Cosenza con il cuore. È stato un dirigente politico che ha coniugato queste due cose, essere un grande amministratore e metterci il cuore, anche nei rapporti umani con la gente che gli stava vicino. Io oggi voglio dedicare a lui questa parte importante della mia vita. L'ho avuto sempre come esempio, mi ha guidato e spero che continui a guidarmi nei prossimi passi che farò. Ci sarebbe molto da dire. È un bel ricordo. Però devo chiudere. Devo chiudere. No, no, nulla. Grazie a Stefania Covello. Grazie a te. Grazie a Ernesto Magorno. Noi ci vediamo perché proseguiremo questo viaggio. Ci inviterai nuovamente, io mi auguro. Prima, durante e dopo. No, perché adesso voglio poi avere ospiti anche gli altri che hanno partecipato a queste primarie per fare il punto della situazione. Così, perché uno poi, c'è un punto della situazione che va fatto, no? Uno partecipa e poi andiamo a vedere il risultato finale, perché quello che conta è proprio l'ultimo atto. Diceva Toto, è la somma che fa il tuo caso. Posso dire una cosa al volo mentre chiudiamo? È inutile dire che si ringrazia sempre tutti, ma io ho un ringraziamento particolare, lo voglio fare alle tante donne giovani che mi hanno sostenuto nei vari comuni della nostra provincia. Bene, io vi ringrazio. Noi ci vediamo domani, alla stessa ora. Buonasera. 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 Grazie a tutti